Musica Riaprire in Molise i punti di primo intervento negli ospedali pubblici e riprogrammare il futuro del sistema sanitario, le richieste dal territorio. Due cortei sono stati organizzati oggi a Foggia per spezzare la catena dello sfruttamento che alimenta nel sud la filiera agricola in piazza ai sindacati. Nuove risorse economiche sono in arrivo in provincia di Isernia per intervenire sull'edilizia scolastica e i finanziamenti sono stanziati dal Ministero dell'Istruzione. Cumuli di immondizia sono stati gettati ai piedi delle mura del borgo antico di Termoli lungo la passeggiata. Quadro desolante e imbarazzante. Buonasera gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Quadro insostenibile nel campo della sanità pubblica. La chiusura di interi reparti ospedalieri ha abbassato in Molise i livelli di sicurezza per i cittadini. Appello al Ministro della Salute Giulia Grillo. Le logiche clientelari del passato hanno abbassato i livelli di assistenza e cure sanitarie nei sei ospedali pubblici del Molise. Per la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Rosa Alba, a testamento nel suo intervento alla Camera dei Deputati, il diritto alla salute è sempre più a rischio, soprattutto per coloro i quali risiedono nei molti paesi delle zone montuose. Vorrei porre la vostra attenzione sulla gravissima crisi in cui versa la sanità pubblica molisana. Una situazione ormai diventata insostenibile e che, come dimostrato dai tragici fatti di cronaca delle ultime settimane, mette fortemente a rischio in tutta la Regione il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Le situazioni più gravi si sono verificate ultimamente a Venafrellarino. In entrambi i centri sono stati chiusi i vari reparti e centri di pronto soccorso sono stati declassati a punti di primo intervento. Poi si è più proceduto alla chiusura di questi ultimi. Le giorni scorsi a Venafrellarino purtroppo sono decedute due persone. Difficile dire che con un intervento immediato si sarebbero potute salvare, ma certo è che i due decessi hanno messo in evidenza le inefficienze della rete di emergenza-urgenza messe in atto dalla Regione Molise. Tali tragici eventi hanno comprensibilmente generato nella popolazione tanta rabbia e dolore, ma anche paura che possano ripetersi, anche perché le voci su ulteriori chiusure non accennano a placarsi, come nel caso del servizio di senologia dell'ospedale di Sernia. Non si possono smantellare i presidi delle zone interne, in quanto il territorio molisano è frazionato in tanti piccoli paesi anche distanti tra loro, dove tra condizioni meteorologiche proibitive e strade dissestate, raggiungere un ospedale può richiedere troppo tempo. Mi riferisco all'Alto Molise e ad esempio all'ospedale di Agnone. La situazione richiede interventi urgenti, come la riapertura dei punti di primo intervento, ma anche la programmazione da parte di un commissario super partes, indipendente dalle logiche di partito, che possa garantire che nella redazione di un piano di riorganizzazione si tenga conto non solo del numero di abitanti, ma anche dal carattere orografico del territorio e delle infrastrutture. Concludo dicendo che purtroppo nel Molise la sanità pubblica è stata caratterizzata negli anni passati da logiche fortemente clientelari e deliberatamente svuotata delle proprie eccellenze a vantaggio di strutture private convenzionate. Al Ministro della Salute Giulia Grillo, l'Onorevole Testamento, si aspetta una risposta rapida per la riapertura dei punti di primo intervento e una riorganizzazione dei presidi sanitari ed ospedalieri che salvaguardi l'occupazione e le caratteristiche orografiche delle due province. Condizioni di vivibilità critiche nella cella addibita al ricovero dei carcerati al Cardarelli di Campobasso. a visitarla la garante regionale dei diritti della persona Leontina Lanciano a seguito di alcune segnalazioni. Lanciano ha previsto un incontro con i vertici ASRM per migliorare le condizioni dell'ambiente in questione. I consiglieri regionali del gruppo consigliare del Partito Democratico, Micaela Fanelli e Vittorino Facciola, hanno presentato una proposta di legge sulle disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età. Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età. E' questo il titolo di una proposta di legge regionale preparata e sottoscritta dai due consiglieri regionali del gruppo del Partito Democratico, Micaela Fanelli e Vittorino Facciola. Abbiamo ritenuto che la legge dovesse essere applicata così come era prevista, quindi senza nessuna proroga, e che i bambini dovessero regarsi a scuola tutti avendo provveduto alla loro vaccinazione. Che la proroga di un anno non fa bene a nessuno, non fa bene ai bambini che non si vaccinano, ma non fa bene neppure ai bambini che si vaccinano, e a quelli immunodepressi, che ce ne sono e ne sono abbastanza, che si potranno costretti a stare tutti quanti in classe insieme probabilmente al fine di evitare il contatto con i bambini che non sono vaccinate, che potrebbero essere loro stesso veicolo di trasmissione delle malattie. Ciò non va assolutamente bene in un territorio normale, in una nazione normale, meglio ancora in una realtà regionale assai piccola come la nostra, dove ne siamo così pochi, dove la possibilità di poter raggiungere ogni bambino è di una facilità estrema, assoluta, non pensare da subito all'applicazione di un obbligo vaccinale era una iattura che non ci potevamo permettere. Così abbiamo proposto con urgenza, depositando una legge, che prevede l'obbligo alla vaccinazione per il contesto regionale da subito, e ci aspettiamo che il Consiglio regionale, che ha la giusta sensibilità, l'approvi in maniera tale da dare immediatamente seguito. Già da quest'anno un obbligo che attraverso la norma regionale tranquillamente sancirà ciò che i genitori e quindi i bambini dovranno porre in essere prima dell'avvio del percorso del nuovo anno scolastico. Il sindacato dei giornalisti del Molise segue con preoccupazione le ultime notizie a merito al riparto delle risorse statali per le TV private stamani a Termoli. Durante la riunione delle emittenti locali di Abruzzo e Molise, la SM ha ribadito la ferma contrarietà all'attuale regolamento che assegna il 90% dei fondi alle TV delle regioni più popolose. La graduatoria redatta su scala nazionale non favorisce il pluralismo informativo e lo concentra in pochi emittenti, discriminando le realtà più piccole con gravi conseguenze occupazionali. L'Associazione della Stampa del Molise invita così la delegazione parlamentare molisana, la regione, gli enti locali, le forze sindacali a mobilitarsi. E' un nuovo passo avanti nell'iter per la riapertura della sede universitaria di Via Mazzini ad Isernia dove si insedierà la Facoltà di Scienze Infermeristiche frutto di un protocollo di intesa tra Comune di Isernia, Regione Molise, Università Curia, Vescovile e Asrem. Ad annunciarlo il consigliere regionale Antonio Tedeschi che questa mattina ha preso parte ad un vertice a Palazzo Daimo. Il documento, sottolinea Tedeschi, sarà pronto per gli inizi di settembre e dovrà poi essere sottoposto all'attenzione dell'Università per la firma definitiva tra le parti. Spezzare la catena dello sfruttamento e del caporalato nelle campagne tra Puglia e Molise. Due le manifestazioni pacifiche promosse oggi a Foggia da associazioni, sigle partitiche e forze sindacali. Da San Severo a Foggia è in marcia questa mattina per dire basta morti sui posti di lavoro. Lo slogan ha accompagnato centinaia di berretti rossi fino al capoluogo Dauno contro lo sfruttamento della mano d'opera nelle campagne tra la Puglia e il Molise per la raccolta dei pomodori, sfruttamento di vite umane alla miserabile paga di un solo euro al quintale. La marcia è stata coordinata dall'Unione Sindacale di Base ed ha preceduto la seconda iniziativa fissata nel tardo pomeriggio, sempre a Foggia, alla quale hanno aderito movimenti spontanei i sindacati e una rappresentanza di potere al popolo di Campobasso per ricordare i 16 braccianti di colore deceduti di recente in due incidenti stradali, quattro sulla provinciale 16 e 12 sulla statale adriatica nelle vicinanze di Lesina. Eppure gli stranieri contribuiscono all'economia agricola del paese e rappresentano una componente indispensabile per garantire il Made in Italy. Lungo lo stivale trovano occupazione regolare 345 mila stranieri provenienti da 157 paesi diversi che con le loro giornate nei campi rappresentano un quarto totale del lavoro necessario in agricoltura. Da prima ha tentato di sottrarle il telefonino, poi il palpeggiamento, a denunciare un giovane nigeriano, una minorenne di Isernia che si trovava in compagnia di tre amici egiziani nei pressi del dopolavoro ferroviario ad intervenire proprio gli amici della ragazza. Ne è nata una lite sfociata in lanci di bottiglie e urla che hanno richiamato l'attenzione della polizia presente nelle vicinanze. Gli agenti intervenuti, appurati i fatti, hanno arrestato il nigeriano. I carabinieri della stazione di Campomarino nei pressi di Porto Cannone hanno rinvenuto due piante di marijuana sottoponendole a sequestro. Sono in corso le indagini del caso per individuare il responsabile dell'illecita coltivazione. Il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione alcuni importanti finanziamenti per intervenire sui edifici scolastici di competenza della provincia di Isernia. A tal riguardo abbiamo sentito il Presidente Lorenzo Coia. Noi abbiamo sfruttato un finanziamento ministeriale del MIUR, Ministero della Ricerca e dell'Istruzione dell'Università, per quanto riguarda l'adeguamento sismico. In particolare abbiamo fatto istanza al Ministero per avere la verifica della vulnerabilità sismica di tutti i nostri istituti, che sono indagini anche abbastanza costose e comportano anche un dispendio economico che non avevamo in bilancio, ma sfruttando questo finanziamento nazionale siamo riusciti ad avere. Quindi tutti gli istituti della nostra provincia avranno questa verifica di adeguamento sismico. Io parlo degli istituti provinciali, delle scuole superiori. In più avevamo già ottenuto il finanziamento per due milioni e mezzo per la ristrutturazione dell'Istituto Tecnico Fermi di Sernia e accanto a questo abbiamo avuto un altro milione e due e cinquanta che è compreso anche nel piano triennale della Regione Molise 2018-2020 per il secondo lotto, la palestra e la sezione staccata dell'Istituto Cuoco. Poi c'è un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni e 420 per quanto riguarda l'Ipsar di Agnone, l'alberghiero e un altro finanziamento per quanto riguarda l'Istituto d'Arte. Diciamo che queste sono le richieste che abbiamo fatto con uno stato avanzato di progettazione preliminare e progettazione esecutiva. Mano a mano che andavamo avanti con il livello di progettazione salivavamo di gradino nelle graduatorie del Ministero. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, abbiamo già adeguato due istituti, il Cuoco e l'Istituto Classico di Sernia. Adesso con questi ulteriori finanziamenti dopo la verifica sismica, perché la verifica sismica verificherà se c'è necessità e bisogno di fare l'adeguamento sismico o la reattazione fuori sito. In particolare l'Ipsar di Agnone è uno di quegli istituti che verranno fatti di sana pianta. Insomma, non sono riattazioni o adeguamento di istituti esistenti, anzi ci sarà l'abbattimento di quello precedente che era in comproprietà tra l'altro con i comuni di Agnone. Al Ministero dell'Ambiente a Roma un incontro sugli interventi relativi le frane di Petacciato e di Civita Campomarano presenti i vertici della regione Molise di Ferrovie Italiane e di Anas Autostrade per quanto di competenza oltre ai rappresentanti dell'autorità di Bacino. Il Presidente Toma, quale commissario di governo per il dissesto idrogeologico, ha acquisito la disponibilità delle risorse per l'intervento di mitigazione della frana di Petacciato ammontanti a circa 41 milioni di euro ha dato il via alle procedure preordinate all'intervento stesso. Per quanto riguarda il dissesto di Civita Campomarano disposta all'acquisizione dello studio preliminare dell'intervento redatto a cura del Comune. Al via oggi i pagamenti della regione agli enti locali in favore di imprese e operatori economici per circa 28 milioni di euro. Interventi in liquidazione relativi a viabilità edilizia scolastica, sistema idrico e raccolta rifiuti. La passeggiata ai piedi delle mura di cinta del borgo antico di Termoli infestata da rifiuti e sporcizia. Davide Vitiello ha incontrato per noi l'artista e pittore contemporaneo Fredi Luciani. Siamo con Fredi Luciani, artista molto conosciuto in vacanza a Termoli, il quale ci teneva a sottolineare la situazione di degrado in cui si trova la passeggiata di Termoli, uno dei luoghi più caratteristici della città. Siamo proprio sotto al castello Svevo di Termoli e di fronte a noi, come potete vedere, c'è il mare. Siamo in periodo di maggiore afflusso di turisti in città. Com'è possibile, secondo lei, che questo sito così importante della città si trova in queste condizioni? Ma la cosa pazzesca che si parla di turismo, di far evolvere, di esportare, ma cosa possiamo esportare se come bigliettino da visita nel sito storico più importante, non solo della città, ma anche del Molise, del Sud, che il nostro castello rientra appunto nei tanti costruiti da Federico di Svevia qui sulla costa sia molisana che abruzzese. E quindi c'è una situazione veramente di grandissimo degrado, cioè io ho degli amici artisti, vengono e restano sbarorditi, come tempo fa la stampa automode di occuparsi sul castello. Io avevo una mostra personale, ci sono due, tre faretti, quindi le mostre sono a buio con i pannelli scuri e logicamente i gabinetti senza acqua, cioè è una cosa terribile. Termoli che dovrebbe essere un po' il baricentro del turismo in Molise, una città di cultura, una città appunto turistica, cosa manca secondo lei a Termoli per fare un salto di qualità? Ma mancano tantissime cose, innanzitutto la cultura, si potrebbero fare tantissime cose, tantissime iniziative, invece di dedicarsi soltanto alla pampanella, alle salsicce e ai fritti. Sarebbe anche bene che l'assessorato alla cultura per il corso potesse coinvolgere le attività commerciali nelle vetrine, esporre dei quadri e tutto. Io ho fatto anche, al Comune di Termoli, ho scritto che avevo alcune iniziative da realizzare con degli artisti, eccetera, ma non ho ricevuto risposta alcuna, insomma. Benissimo, lei si è messo proprio qui, proprio per far testimoniare la situazione in cui si trova la passeggiata a Termoli, quindi lei ha voluto lanciare un appello in questo modo alle istituzioni, giusto? Ma vede, esistono delle miscele, dei cocktail, io respiro aria di mare, mare purissimo e non guasta poi anche un pochino, un qualcosa di maleodorante alle mie spalle. Spero che non hanno riunito opi come è successo l'altra sera. 100.000 euro per riqualificare i bagni pubblici. La Giunta Comunale di Campobasso ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi in via Palumbo e via Cavour. A breve le procedure per affidare i lavori. Una giornata intera l'11 agosto a Castelbottaccio dedicata ai lavori artigianali delle donne che nell'occasione mettono in mostra anche alcuni antichi pezzi ad uncinetto di notevole fattura. L'iniziativa di alto livello culturale si intitola Intrecci. Un recupero culturale di grande importanza, quello previsto dall'iniziativa che la prologo di Castelbottaccio ha voluto chiamare Intrecci che mettendo in mostra alcuni importanti lavori artigianali delle donne soprattutto quelle anziane del paese vuole ricostruire il valore storico e la grande valenza sociale della comunità attraverso la riscoperta di un insieme di lavori che devono essere condivisi e trasmessi alle nuove generazioni. Intrecci sarà il percorso di rigenerazione che interesserà l'intera giornata dell'11 agosto. Rigenerazione perché queste pratiche diciamo artistiche delle donne del paese sono importantissimi per le nuove generazioni e quindi vanno valorizzate e apprezzate e rese pubbliche diventano arredo diciamo urbano perché è attraverso queste trame diciamo di storie di fili che si manifesta tutta la creatività delle nostre mamme delle nostre zie delle nostre amiche carissime. Un progetto che ha immediatamente convinto l'intera amministrazione comunale che ha deciso di patrocinare questa prima edizione. Questa iniziativa quando ci è stato illustrato dalla Prologo non specifico da appena la Presidente questo progetto l'abbiamo accolto con molta curiosità perché abbiamo visto questi obiettivi di natura sociale culturale e di rigenerazione di natura sociale perché vediamo queste signore le nostre madri le nostre nonne le zie le amiche le vicine di casa che si riprendono il loro spazio il loro posto tornano visto che loro sono i pilastri della nostra comunità per la prima volta tornano in piazza a fare quello che più le piace riprendono anche il loro tempo libero il loro spazio portando avanti questa tradizione che speriamo di non far perdere che questo del lavoro ha un cinetto piuttosto che a maglia ed altro in chiusura in chiusura di serata il concerto della Jurassic Orchestra una jazz band che si esibisce per fini esclusivamente di solidarietà in serata in serata nell'atrio del palazzo ducale di Larino la fondazione Michelino Trivison Onlus presenterà la seconda edizione dell'evento di solidarietà a cuori aperti per Felice in favore del piccolo Felice Guastamacchia di Terlizia affetto da una rara patologia della pelle l'evento sarà arricchito da brani musicali e letture di poesia tratte dal libro Con la luna sotto il braccio di Fulgenzio Caradonio il ricavato sarà devoluto in beneficenza L'estate molisana continua con nuovi eventi musicali culturali ed artistici diversi gli appuntamenti in tutta la regione Nuova giornata di eventi estivi oggi in Molise a Campobasso al Parco San Giovanni in serata ultimo appuntamento del Festival Nazionale del Teatro Popolare della Tradizione in scena a Gennariello della Compagnia Terza Classe del Dopolavoro Ferroviario nel piazzale del Castello Monforte invece uno spettacolo sulle origini dell'universo e del Sistema Solare a Castelbottaccio nel tardo pomeriggio incontro con l'autore con Silvia Roncucci autrice del romanzo L'anno della morte di Kurt a Ripa Limosani festeggiamenti in onore di San Gaetano messe ed aperitivo campestre bambino in festa con giochi e divertimento a Rocca Vivara ventiquattresima edizione del paleo medievale di San Nicola a Guionesi con corteo storico torneo cavalleresco e giostra degli anelli aperture wow a Larino a cura dell'associazione petrangolare della diocesi locale in serata ritrova la cattedrale di San Pardo per un itinerario tra arte e fede a Termoli alla chiesa del Sacro Cuore note d'estate a cura dell'associazione corale del posto terza sagra della Pampanella San Martino Empensilis sulle gradinate del teatro San Nita di Pietrabbondante il concerto dei Floyd Opera a Carpinone attenzione alle insurrezioni contro i Garibaldini a relazionare il direttore della biblioteca comunale di Isernia Mina Tribute Band a Frosolone Nel pomeriggio a Casa Calenda la sedicesima edizione di Molise Cinema con l'arrivo dell'attore Elio Germano in serata poi la proiezione del film Io sono tempesta di Daniele Lucchetti che vede Germano co-protagonista accanto a Marco Giallini infine alle 22.30 in arena sarà proiettato Essere Gigione l'incredibile storia di Luigi Ciaravola di Valerio Vestoso e passiamo ora alle previsioni del tempo Sole e alta pressione oggi sul Molise temporali pomeridiani sulle zone interne appenniniche dalla sera prevalenza di cielo stellato le temperature odierne sono comprese tra i 22 gradi di Campobasso e la massima di 32 a Disernia ventilazione orientale calmo il mare adriatico domattina il cielo sarà privo di nubi valori climatici stazionari il campo basso di Bruno mandragola affronterà in amichevole in amichevole domani pomeriggio a San Bartolomeo in Galdo il fortore formazione di promozione questo è il primo impegno calcistico della nuova stagione per testare un gruppo formato soprattutto da molti giovani intanto tra i rosso-blu si è aggregato la forte punta di colore di Hop i dirigenti sono alla ricerca di un altro portiere under si terrà venerdì 10 al quartiere CEP di Campobasso la chiusura del primo campus estivo organizzato dalle parrocchie di San Giuseppe Mater Reclesi e dalla polisportiva Chaminade l'evento finale sarà un incontro educativo e ricreativo al fine di condividere le esperienze vissute dai ragazzi e dagli educatori nei mesi di giugno luglio ed agosto il ventitresimo rally automobilistico del Molise è in programma il 29 e 30 settembre rispetto allo scorso anno sono rimaste invariate la prova spettacolo del sabato sera nella città capologo e la prova di busso sui 6 km le altre prove saranno la Bosco Macere nella Valle del Tammaro e la Castel Petroso in totale gli impegni competitivi saranno 9 per 280 km dell'intero tracciato e con questa notizia si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento alle prossime edizioni arrivederci